eccovi un video super artigianale fatto per farvi vedere tutti questi chili mini perché sono tutti uno più bello dell'altro sono 85 per 120 qui guardi per cortesia la misura di questo 85 per 125 poi dopo ce n'è qualche centimetro in più in meno non ha importanza adesso ve li facciamo vedere sono tutti i chili mafghani vai verde sono tutti i chili mafghani uno più carino dell'altro sono caudani si chiamano sono tutti intrecciati a mano con killing bellissimi come vedete è una fantasia una una più bella dell'altra tutti i colori molto carini c'è una scelta infinita e sono anche come questo ad esempio è un petto più contemporaneo anche questo gli altri hanno disegni più tradizionali ci sono tutti tutti i disegni tipici dei chili con tutte le figure scaramatiche dei chili in questa una bordura e libelinde questi sono tutti i rombi geometrici cane che corre qui un motivo medasil stilizzato in bordura bellissimi anche questi bordi neri questo è chiaro luminoso tantissimi colori tantissimi colori uno più bello dell'altro sono giocati veramente bene questo è contemporaneo ad esempio guarda che l'elem di testata è molto carino questo c'è il bordo scuro un pochino più piccolo un centimetro più piccolo degli altri ma comunque di questi chili ma abbiamo tutte le misure grandi stretti lunghe corte su questo video vi fa serve solamente per farvi vedere la grande fantasia che c'è guarda azzurro acqua qui con dei viola e viola bellissimi bordura libelinde anche questo questo è un molto particolare sembra sembra tutto giocato strano questo fu il più classico più ho bellissimo il colore di fondo di questo con tutti questi rombetti sempre sono tutti in tecnica killing che la tecnica stacchi sono robusti stendono bene a terra sono diritti e hanno dei colori veramente straordinari come avete visto stiamo facendo passare tanti per farvi vedere che non ce n'è uno uguale l'altro ogni pezzo è unico tre rombi centrali più con le stelline anche questo molto carino comunque questi è soltanto un piccolo salito la misura è 85 per 125 però sono molto ci sarà quello 81 82 potete scegliere con le misure dopo sono tutte scritte esattamente qual è la misura bellissimi uno più bello dell'altro